Dopo un lungo braccio di ferro tra i sindacati, dei lavoratori e la proprietà, buone notizie sul fronte dell'avvertenza Betafence. L'azienda infatti ha deciso di accettare la richiesta dei sindacati, e cioè quella di 12 e non più 6 mesi di contratto di solidarietà per i dipendenti dello stabilimento di Tortoreto della multinazionale delle recinzioni. Quindi se l'accordo verrà ufficializzato nel prossimo tavolo regionale la ristrutturazione dell'azienda con tanto di dismissione delle linee e due terzi di 150 dipendenti in esubero, verrebbe rimandata da ottobre di quest'anno a luglio 2022. Un importante risultato dovuto al fatto della lotta che comunque paga delle lavoratrici e lavoratori della Betafence che sino ad oggi si sono battuti con le unghie e con i denti appunto per mantenere il posto di lavoro e per arrivare a quel punto dove noi, quella linea che avevamo tracciato in precedenza. Un grande risultato, l'azienda è tornata, ha rifatto un passo indietro come quando lo fece per la delocalizzazione questa volta lo ha fatto venendo incontro alle richieste del sindacato, cioè l'anno di solidarietà e tra l'altro l'anno di solidarietà partirà dal mese di giugno e quindi finirà nel mese di luglio 2022. Quindi abbiamo buttato la palla avanti di un anno e mezzo. E questo è molto importante, molto importante perché comunque le maestranze continueranno a rimanere legate al sito produttivo della Betafence e comunque la Betafence nel frattempo vedremo che cosa accade vedremo anche se torneranno indietro anche solo delle localizzazioni delle linee produttive. Nel frattempo la vittoria la riportiamo a casa, ne discuteremo al tavolo regionale che ci sarà martedì prossimo con l'assessore quaresimale e tracceremo le linee guida per un accordo che sia blindato per i lavoratori e che sia anche costruttivo per il futuro avvenire.